buon pomeriggio ragazzi eccoci qui in un nuovo video a mio avviso un contenuto molto interessante e che potrà tornare utile a veramente veramente tanti di voi perché il grosso problema fondamentale nel bodybuilding è la gestione dell'alimentazione ovvero non sappiamo come cosa e quanto mangiare e in che momenti della giornata mangiare per assimilare al meglio i nostri macronutrienti ma soprattutto per gestirli al meglio in funzione dell'allenamento ecco quindi che oggi vi mostro un esempio anzi due esempi di due tipi diversi di alimentazioni in base al contesto che noi andiamo a scegliere quindi sia una fase di bulk quindi di massa o una fase di cat quindi una fase di restrizione calorica ho preso come esempio un soggetto di 80 kg quindi diciamo un soggetto di una corporatura media e gli ho dato ovviamente dei valori ripeto sottolineo subito dei valori casuali nel senso che poi il soggetto potrebbe aver bisogno di più o meno carboidrati per esempio che poi è il macronutriente che ci interessa di più in un contesto di bulk o di cat quindi non prendete questi valori per oro colato noi dobbiamo prenderli come riferimento per andare a costruire un'alimentazione sul singolo soggetto ora per comodità ho immaginato che ci siano sei passi durante la giornata inutile dirvi che nel momento in cui ne fate uno in più uno in meno potrete pensare di accorpare o di splittare uno o più pasti io oggi per comodità li ho divisi in sei pasti che andiamo subito a vedere allora ho preso come riferimento un soggetto che nella fase di bulk si vada ad allenare tardo pomeriggio quindi immaginiamo sei sette di sera che è più o meno l'orario in cui molti di voi si vanno ad allenare quindi possiamo immaginare più o meno qui ok il soggetto si allena in questa fascia oraria come andiamo a gestire i carboidrati le proteine e grassi come andremo a gestire i macronutrienti nel corso della giornata allora immaginiamo ovviamente che in bulk le proteine tenderemo a tenerle un pochino più basse perché non ci serve un grosso quantitativo di proteine dirette perché indirettamente le prendiamo già tante dai carboidrati quindi sui 120-150 grammi su un soggetto di 80 kg proteine nobili quindi sul grammo e mezzo per chilo va benissimo 50-60 grammi di grassi tra i 0,6 e 0,7 massimo si può dire anche a un grammo di grassi per chilo corporeo e il resto sono carboidrati che in questo caso sono 600 qui parlo di lordi ragazzi non andiamo ora nello specifico a considerare che magari la vera ha meno carboidrati netti del riso e così via è giusto per avere un'idea poi ovviamente se volete info più dettagliate e un programma stilato nel dettaglio per voi cliccate sul link del coaching online compilate il questionario e prenotate una consulenza gratuita con me in modo che insieme potremo strutturare poi il vostro piano il vostro piano di allenamento il vostro piano alimentare con consigli fatti ad hoc per voi quindi nello specifico che andranno poi a essere utili per il raggiungimento del vostro obiettivo inoltre se non mi seguite su instagram gianluca-morelle-coach iniziate subito a seguirmi perché anche lì inserisco tanti contenuti veniamo a noi allora soggetto di 80 kg in bulk che si allena nel tardo pomeriggio prima cosa andiamo a inserire la grossa parte dei nostri carboidrati nel peri-workout che significa peri-workout? pre-workout, intra-workout, post-workout che è la fase in cui il nostro corpo necessita di più carboidrati come fonte energetiche anche per il recupero e per migliorare la prestazione quindi io partirei proprio da questa fascia qui ovviamente andiamo a considerare che si allenerà tra il passo 4 e il passo 5 quindi un paio d'ore prima del nostro workout diciamo intorno alle 3 e mezza alle 4 se ci alleniamo per le 6 andiamo a inserire un passo comunque ricco di carboidrati che possono essere per esempio io ho messo 100 grammi di riso questa è pasta, questa è crema di riso, questa è farina di riso alimenti comunque abbastanza digeribili si potrebbe mettere anche l'avena però magari un po' più lenta nella digestione potremmo anche evitarla e andiamo a inserire ovviamente una fonte di proteine che può essere pollo, 100 grammi questa è pollo, questa è pesce questa è anche carne rossa magra e 10 grammi di olio o 20 grammi di burro d'arachidi ok? tra il passo 4 e il passo 5 abbiamo il nostro allenamento durante l'allenamento possiamo pensare anche di inserire dei carboidrati quindi per esempio su soggetto di 80 kg 40 grammi di ciclodestrine per esempio e 10 di amminoacidi essenziali più eventualmente anche della creatina da mettere in tra workout male non ci fa considerate che per quanto riguarda le ciclodestrine possiamo andare tra lo 0,5 fino a anche un grammo di ciclodestrine di grammo di ciclodestrine per chilo di peso corporeo quindi 40, 50 fino ad arrivare a 80 ma in bulk mangiando comunque tanto secondo me più di 40, 50 grammi su un soggetto di 80 kg non servono io infatti per esempio che sono sopra i 90 vado sui 50 grammi massimo il passo post workout a mio avviso è quello dove andremo a inserire il maggior numero di carboidrati durante la giornata quindi in questo caso io ho messo 150 grammi di riso ma possono essere anche cereali cornflakes anche dei cereali veramente più zuccherini tipo anche nei squeak paradossalmente no? da mixare le da inserire ogni tanto male non fanno c'è chi inserisce i plasmon per esempio comunque alimenti che sono più veloci nell'assimilazione anche un po' più zuccherini in post workout possono andare bene comunque perché vanno subito a ripristinare le scorte di glicogeno che abbiamo perso durante l'allenamento ovviamente qui inseriamo una proteina veloce che può essere un'isolata o un'idrolizzata possiamo mettere anche del pollo sì però sinceramente nel post workout io preferirei più una proteina da bere o comunque da inserire magari anche latte e cereali per esempio un latte di mandorla mi piace da morire che è assimilato in maniera più rapida più veloce qui evitiamo i grassi ragazzi evitiamo i grassi nel post workout perché non ci servono a niente ok? anzi rallentano l'assimilazione di carburati e proteine e non è ciò che noi vogliamo in questo momento perché noi vogliamo che ciò che mangiamo entri subito in circolo quindi grassi post workout no ok? poi nel pre nanna che noi abbiamo inserito possiamo comunque mangiare parecchi carboidrati perché comunque abbiamo fatto un bel allenamento pesante alle 7 di sera quindi siamo ancora in una bella finestra anabolica in cui sfruttare le riserve le risorse che abbiamo in corpo no? quindi magari dell'avena perché comunque è un po' più lenta nell'assimilazione un 100 grammi o anche farina di riso crema di riso 200 di albume per esempio e 20 grammi di burro d'arachidi se vi siete fatti il vostro pre nanna e andate a dormire andiamo poi indietro nella giornata qui ovviamente nei passi precedenti se vedete ho abbassato i carboidrati perché non ci serve una grossa quantità di carboidrati al mattino se noi ci alleniamo la sera cioè questi carboidrati piuttosto ce li teniamo nel momento in cui ci andiamo ad allenare quindi magari abbassiamo i carboidrati su 75 grammi potrebbero essere anche dei passi uguali 75 grammi di riso nel passo 2 e passo 3 quindi metà mattina e pranzo 100 di pollo e 10 di olio la colazione comunque venendo dal digiuno della notte possiamo farla un po' più abbondante 100 grammi di avena farina di riso può essere simile al pre nanna 200 di albume 20 grammi di burro d'arachidi ovviamente nessuno ci vieta di sostituire dei pasti proteici con delle proteine isolate per esempio anche delle whey non ce lo vieta nessuno ovviamente nel momento in cui noi andiamo a variare l'allenamento quindi magari per esempio ci alleniamo al mattino per esempio alle 11 quindi o alle 10 dopo il pasto 1 faremo ovviamente un pasto magari uno che sui 100 grammi va bene questo passo 5 lo spostiamo qui quindi il post workout diventa abbondante il passo 4 diventa il passo 3 e questi due pasti li spostiamo alla fine alla fine abbastanza intuitivo l'importante è capire che nella fase centrale noi andiamo a inserire quella diciamo del peri workout più carboidrati cut ok qui invece siamo in una fase di dimagrimento e ho immaginato che il nostro amico si alleni verso mezzogiorno quindi tra il passo 2 e il passo 3 ok anche qui partiamo ovviamente da questi due pasti principali che in questo caso ho fatto uguali e in questo caso ragazzi avendo 300 grammi di carboidrati praticamente la quasi totalità quasi 70% dei carboidrati li ho inseriti in questi due pasti sono 600 grammi qui magari 100 di riso 150 di polo qui ho alzato le proteine perché ovviamente in cut avviene la neoglucologia in assenza di carboidrati per preservare di più la nostra massa magra andiamo ad alzare le proteine sopra anche 2 grammi 2 grammi e mezzo di proteine per chilo quindi qui vedremo mentre qua vediamo dei pasti da 100 grammi di pollo per esempio di carne rossa di pesce qui possiamo andare sui 150 o sui 35 grammi di proteine isolate e sui 250 di albume ovviamente ragazzi sono numeri come riferimento ok passo 1 e 2 2 e 3 scusate 100 grammi di riso 150 di pollo e 10 di olio post workout ovviamente senza grassi possiamo fare un passo simile a questo ovviamente con un minor numero di carboidrati passo 1 e passo 4 che sono il pre pre workout e il post post workout con 50 grammi di carboidrati quindi una quota media e infine possiamo eliminare in questo caso i carboidrati cena e pre nanna perché alla fine ragazzi se non ci siamo allenati la mattina presto alle 11 la sera i carboidrati non ci servono a nulla quindi teniamoci questi carboidrati per la prima parte della giornata qui inseriremo delle verdure ovviamente inseriamo pollo carne rossa pesce dell'olio ovviamente nel pre nanna possiamo mettere se lo vogliamo fare dell'albume con del burro d'arachidi per esempio e diciamo a mio avviso ha molto senso anche qui se il workout si sposta i macros si spostano quindi magari piuttosto ci alleniamo la sera magari a pranzo potremmo evitare i carboidrati o ridurli al minimo e metterli in una quantità maggiore nel post workout a cena e pre nanna questo ragazzi serve anche un po' sfatare il mito dei carboidrati no a cena cioè i carboidrati vanno utilizzati quando ci servono quindi se ci alleniamo la sera i carboidrati rimettiamo la sera se ci alleniamo la mattina i carboidrati li mettiamo la mattina mi sembra molto semplice come cosa credo anche che in questo modo abbiate comunque un'idea un po' più precisa di come vado impostato un'alimentazione potete anche provarla su di voi magari commentate mi fate sapere che ne pensate e vi ricordo che per il coaching i posti sono attivi potete contattarmi o su instagram o compilando il form che trovate sia su youtube sia anche su instagram potete guardare il video introduttivo per notare una consulenza gratuita con me e con questo è tutto spero il video sia stato utile e ci vediamo al prossimo grazie a tutti